Innanzitutto questo è un omaggio alla pittura e alla fotografia che nell'opera in questione sono entrambe rappresentate. Analizzando il dipinto La Camera Obscura datato 1764 ci si deve necessariamente soffermare sulla definizione di cornice. Già di per sé un dipinto ed una fotografia sono delimitati rispettivamente dalla superficie della tela e dall'inquadratura, ma la questione è ben più complessa. La cornice ha come funzione tradizionale quella di abbellire ed isolare l'opera dalla parete. Ne determina e delimita un campo, distinguendo la figura dallo sfondo della parete. Pertanto corrisponde all'idea di confine. Il termine confine ha molti significati, può essere spaziale, temporale, concettuale, pertanto di pensiero. Sta ad indicare una separazione tra due aree contrapposte. È una distanza ed è anche un contenimento, ossia un limite. La parola limite in latino ha due diverse radici che sono paradossalmente opposte nel loro significato. La prima è limes, il cui senso è barriera, muro, qualcosa di invalicabile, che impedisce, che toglie la possibilità di essere attraversata. Crea con il pensiero o con l'ausilio di mezzi materiali una netta cesura tra spazi differenti. La seconda radice è limen, ossia barco, qualcosa da trasgredire che permette il passaggio e lo scambio in entrambe le direzioni. Una soglia. L'idea che la cornice delimiti uno spazio esplorabile con lo sguardo e che rappresenti un limite attraversabile è esplicitata nel quadro del pittore Per Vorel del caso, intitolato ironicamente Sfuggendo alla critica e datato 1874. Ma lo stesso concetto è ben visibile nel dipinto che stiamo osservando. Un magistrale trompe l'oeil che confonde lo spettatore, il quale non riesce a distinguere i confini tra lo spazio reale e quello immaginario. Una ragazza ammiccante, una bambina impaziente ed un giovanotto nell'intento di portare all'interno della cornice la camera oscura. Sembra quasi vogliano farsi un selfie. All'interno del quadro gli oggetti e le persone completano la propria forma oltre il limite imposto dal bordo e la cornice diventa così un limite trasgredibile e perde quella funzione di margine all'interno del quale è custodito un mondo che imita la realtà. La cornice diventa una metafora ad indicare che sempre nell'opera d'arte non ci si deve limitare a leggere ciò che è visibile, ma sempre si deve andare oltre per comprendere quello che sta al di fuori e dietro la superficie, sia che essa sia una tela o una fotografia. Un osmosi tra dimensione iconica e dimensione reale, tra la spazialità iconica in continuità con la spazialità reale, permettendo un dialogo ed uno scambio.